Nicole Zanni e Lorenzo Armarolli, secondi classificati in questa seconda stagione di Vuli Pupar Contes, complimenti! Grazie, grazie mille! Allora, secondo voi cosa vi ha impedito di salire sullo scalino più alto? Ma secondo me ho sbagliato, ammettendo, ho sbagliato due passi e evidentemente sarà stato questo, credo, spero. Dici? Ma sì, poi comunque il pubblico ha votato quello che è stato più apprezzato così e quindi va bene lo stesso. Voi siete comunque soddisfatti anche perché mi dicevate che avete a casa un sacco di medaglie, ma questa è la prima coppa? Prima coppa sì, perché le nostre gare ci premiano con medaglie oro, bronzo o argento. Vedi? E questa qua non so se è un bronzo o argento, però è una coppa, fatela vedere bene. Oh, eccola qua! Siete stati meravigliosi, siete giovanissimi, siete pieni di energia e secondo me avete veramente un grande futuro davanti. Mi raccomando, continuate e secondo me lo farete, non c'è bisogno che ve lo dica io, perché le emozioni che date sono veramente tante e non è una frase fatta. Vi giuro che è così. Quindi grazie per quello che avete fatto per noi. Grazie mille, Mark, per questa opportunità. Ci siamo divertiti un sacco e siamo soddisfatti comunque del risultato. Lorenzo, a chi volete dedicare questa vittoria di secondo posto? Vogliamo dedicare questa vittoria qua al nostro maestro Claudio Tarditi, a Gaia Bozzani e a tutta la TSD che comunque ci segue, ci sostegna. Salutiamoli, grazie mille Nicole Zani e Lorenzo Ermarolli! Ciao! 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 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti